Ciao a tutti ragazzi, siamo nell'1 maggio e oggi mi sono fatto la scampagnata a casa e sono sceso la mia in barbecue sto preparando un po' di cipolla caramellata con cipolla con zucchero di canna, rosmarino e un po' d'olio e un pizzico di sale ho messo il sale e il mio cipollotto ora è pronto ora esco la teglia, passo il limone sulla griglia e iniziamo ad arrostire la carne per la serie ci vuole il guanto mettiamo la carne a bordo giriamo la carne ne vado a uscire qualcuna non troppo cotta perché a me troppo cotta non piace la vado a riporre dentro la sua ciotola salsiccia giriamo salsiccia la braccia e cipolla mi trovo al dedice dove si sono radunati un po' di ragazzi perché ci sono alcune band che suonano salsiccia tricò salsiccia c'erano pure loro allo stadio salsiccia e salsiccia 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 e salsiccia 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 Grazie.